Allora, questa mattina ho postato un mio ritratto scattato da un bravissimo Gianluca Fontana, un fotografo italiano che vive a Londra e con il quale ho lavorato per la prima volta. E una sua grandissima qualità è stata proprio quella di riuscire a tirar fuori la vera Martina. Questa foto ha fatto così nascere tutta una serie di commenti, polemiche, forse neanche tanto nei miei confronti, quanto anche fra di voi, fra i follower. Sul fatto del trucco, del non trucco, dell'essere noi stessi, non essere noi stessi. Allora, ovvio che quando io lavoro sono truccata, perché comunque uno studio fotografico, un set, una pubblicità, una campagna, insomma, ci sono comunque uno studio fotografico, un set, una pubblicità, una campagna, insomma, ci sono dei canoni da rispettare, ci sono delle richieste da parte dei brand e dei clienti che vogliono un certo tipo di immagine, che non significa snaturare la persona, però ovviamente quando un volto viene truccato e viene pettinato, comunque cambia. Non è neanche immaginabile pensare di andare su un set o pubblicizzare una crema completamente struccati, perché comunque serve anche un senso estetico di un certo tipo, ci sono delle luci importanti, cioè ci sono comunque delle regole da rispettare. Poi nella mia vita di tutti i giorni io posso essere struccata, posso essere, come vi vedete adesso, con un trucco naturale, anzi con questa luce che mi ha fatto cascare tutto, non si capisce bene. Sono stata a pranzo con un'amica sotto casa, nel suo ristorante, distanziate ovviamente, e questo è un trucco acqua e sapone, nel senso che è quello che mi faccio abitualmente, questa luce inganna un po', non sono così illuminata, così tutta patinata come... e non ho usato filtri, quindi è la luce. Per dirvi che dobbiamo anche un po' smetterla con tutte queste polemiche, critiche, soprattutto fra noi donne, impariamo a rispettarci di più, impariamo a prenderci per mano, impariamo ad essere un po' più complici, non facciamoci la guerra, cerchiamo di sostenerci a vicenda e se abbiamo dei difetti, se abbiamo qualche cosa che non va, un po' di capelli bianchi, qualche chilo di troppo, basta tutta questa perfezione, nel senso che nessuno ci impone di essere perfette e quindi concediamoci di essere imperfette, troppo magre, troppo grassi, troppo scure, troppo chiare, troppo religiose, poco religiose, basta, cioè, stiamo esagerando, quindi viva il trucco e viva lo strucco, ciao!